Gentili telespettatori, benvenuti a questo nuovo appuntamento con il nostro telegiornale che apriamo con la scomparsa di un grandissimo artista del rock dagli anni 70 in poi, stiamo parlando ovviamente del Duca Bianco, David Bowie, aveva 69 anni, peraltro compiuti da poco essendo nato l'8 gennaio del 1947, per 18 mesi ha combattuto contro il cancro, vediamo. Era uscito da pochi giorni il suo ventottesimo album, Black Star, dall'8 gennaio a disposizione di fan e appassionati. Sarà l'ultimo lavoro pre-mortem di David Bowie, leggenda del rock classe 1947, spentosi nella notte italiana a 69 anni dopo una lotta durata 18 mesi contro il cancro. Aveva dato alla luce il disco con cui ha salutato nel giorno del suo compleanno. Sette canzoni, compreso il pezzo omonimo dell'album, che saranno il testamento di una delle figure più influenti nel mondo della musica mondiale. Detto il Duca Bianco, è stato un esempio di anticonformismo sia per i suoni originali che per lo stile colorato, originale. Da due settimane aveva annunciato che non avrebbe più calcato i palcoscenici da cui si era allontanato già dieci anni fa. Lascia agli amanti del suo inconfondibile stile e in generale agli ascoltatori di tutto il mondo delle pietre miliari come Heroes, Life on Mars e Starman. È stato anche attore in 20 film. Negli ultimi anni, non esibendosi più dal vivo, aveva portato il suo genio anche a livello di immagine e nei suoi video. In ultimo quello di Lazarus, il singolo con cui si è congedato. Nel giorno in cui la Camera si esprime sulla riforma costituzionale, il Premier Matteo Renzi allontana l'ipotesi di un avvio di un discorso sul reato di clandestinità già a partire dal prossimo Consiglio dei Ministri. Una decisione che ovviamente ha scatenato diverse polemiche nel mondo politico italiano. Vediamo. La questione sulla depenalizzazione del reato di clandestinità non sarà nel prossimo Consiglio dei Ministri. Lo assicura il Premier Matteo Renzi dopo le polemiche accese dei giorni scorsi all'interno della maggioranza. Secondo i magistrati, aggiunge parlando al Tg1, il reato non serve e intasa i tribunali, ma è anche vero che c'è una percezione di insicurezza per cui questo percorso di cambiamento delle regole lo faremo tutti insieme senza fretta. Credo che mai, come in questo momento, ha detto Renzi a proposito dei problemi sull'immigrazione, sia chiaro che l'Europa deve avere una posizione comune. Le modalità con le quali questo lavoro dovrà essere fatto sono quelle che l'Italia ha indicato dal primo giorno, no alla demagogia, ma anche no al buonismo esasperato. Chi sbaglia deve pagare e va mandato via. Ma la cronaca porta alla ribalta ancora il problema degli smarchi nel suo lato più drammatico. Il cadavere di una donna, infatti, è stato recuperato vicino ad uno scoglio in località felloniche, non lontano da Capodileuca. Le ricerche sono in corso per trovare alcune persone disperse che farebbero parte di un gruppo di migranti di nazionalità somala, scaricato in mare da scafisti che poi, a bordo di una tante, hanno ripreso il largo. A bordo avrebbero viaggiato 40 immigrati, ne sono stati rintracciati al momento 35. È stata un'altra giornata di passione quella del sindaco di Quarto in Campania, ovvero Rosa Capuozzo, sindaco del Movimento 5 Stelle, che in questo momento non risulta indagata dai carabinieri all'interno della vicenda, in cui invece è indagato l'ormai ex consigliere del Movimento 5 Stelle Giovanni De Robbio per presunti abusi edilizi nella casa in cui il primo cittadino abita con il marito. Indagini che stanno concentrando in questo momento su De Robbio, ma non solo perché nella giornata di oggi i carabinieri hanno perquisito proprio il comune e anche la casa, l'abitazione dello stesso sindaco. Vediamo. Ho deciso di fare questo video perché è venuto il momento di fare chiarezza, senza filtri e senza inesertezze di quello che è successo a Quarto. Noi a Quarto abbiamo combattuto contro la camorra ed è un passo importante che tutti i comuni amministrati del Movimento 5 Stelle dovranno fare, dovranno fare non ultimo anche nel Comune di Roma, perché i tentativi di infiltrazione ci potranno sempre essere. Andiamo con ordine a fronte alle varie questioni. La questione è stato detto tanto sulla questione stadio, ma la questione stadio si chiude e si apre in un mese, un lasso temporale che dura il mese di luglio. Il programma Movimento 5 Stelle è stato chiarissimo. Lo stadio deve essere dei cittadini, lo stadio deve essere affidato al Comune. La gestione comunale deve essere tale e non può essere privata, perché la gestione tra l'altro privata precedente era anche fatta in modo deprecabile. Un ex consigliere, prima espulso e poi dimesso del Movimento 5 Stelle, faceva pressioni per ottenere una gestione privata, perché diceva che il Comune economicamente non era in grado di gestire lo stadio. Io ho dimostrato nel Movimento 5 Stelle e nell'amministrazione di Quarta di Lo Stato che lo stadio può essere gestito economicamente dal Comune ed è anche una soluzione vincente del Comune. La questione per ovvio, dopo le continue pressioni politiche, nate prima con la questione del stadio e poi con la scelta degli assessori nelle divergenze politiche, sono sempre aumentate di più, sono sempre più acolite e mi hanno portato poi insieme ai consiglieri a non farlo scegliere come Presidente del Consiglio. Fondamentale, non è diventato Presidente del Consiglio e lo stadio è rimasto del Comune. Ho letto inoltre sui giornali alcune questioni che io mi sono rimangiato tutto, che ho prima parlato di minacce e poi di intimidazioni. Confermo, non mi sono rimangiata niente, le pressioni del Consigliere sono state di natura prettamente politica ed è per questo che non potevo certo denunciarlo. Non posso denunciare per una pressione politica perché rischierei comunque la denuncia per Colugna da parte sua. E quello che avete visto è un estratto del video che lo stesso Sindaco Rosa Capuozzo ha pubblicato sulla propria pagina Facebook per rispondere alle accuse che le vengono mosse, peraltro proprio dallo stesso Movimento 5 Stelle è arrivato l'invito anche da Beppe Grillo al Sindaco a lasciare il proprio incarico. Noi cambiamo pagina e passiamo a un'altra vicenda che ovviamente è di ben più lunga data, quella che riguarda l'Ilva e la situazione attuale dei laboratori, degli stabilimenti del colosso delle acciaierie, un colosso su cui il governo sta cercando ovviamente una soluzione che in questo momento è stata ancora una volta rimandata a data da destinarsi, nel frattempo però i laboratori chiedono chiarezza e lo fanno attraverso manifestazioni che sono previste un po' in tutta Italia. Vediamo. Un mese di tempo da oggi per presentare le manifestazioni di interesse nei confronti dell'Ilva, 30 giorni fino alle ore 18 del 10 febbraio, una fase di partenza utile a individuare i potenziali acquirenti, la cessione avverrà invece entro giugno. Non rassicura tutto questo i lavoratori che anzi temono i licenziamenti, la società o l'accordata che si aggiudicherà il siderurgico infatti non necessariamente deciderà di tenere tutti, sono ore di sciopero quindi a Genova per gli operai hanno occupato la sede del comune. Da oggi in aula la Camera di decreto legge sull'Ilva varato lo scorso 4 dicembre dopo il via libera delle commissioni attività produttive e ambiente avvenuto nei giorni scorsi. Sono da definire oltre ai termini della cessione della fabbrica la concessione all'amministrazione straordinaria dell'Ilva di un prestito di 300 milioni, lo slittamento dei termini dell'autorizzazione integrata ambientale da dicembre 2016 a giugno 2017 e ancora l'attribuzione all'amministrazione straordinaria di 800 milioni in gestione ai commissari per le misure ambientali e sanitarie. Per domani intanto l'eurodeputata tarantina del Movimento 5 Stelle Rosa D'Amato ha indetto una conferenza stampa alla Camera dei Deputati. L'Ilva anticipa in una nota è sostanzialmente in vendita, le prescrizioni dell'AIA allungate ulteriormente, nessuna previsione per la bonifica, nessuna programmazione per il futuro, nuove infrazioni europee in arrivo. Il decreto del governo sull'Ilva insomma è un disastro annunciato. Andiamo ora nel Ferrarese a Porto Maggiore dove nella giornata di ieri si è verificata un'esplosione all'interno di un poligono di tiro privato che ha portato alla morte di tre persone e al ferimento per ustione di altre tre persone, secondo le informazioni raccolte dai vigili del fuoco. Ci sarebbero due feriti anche proprio tra i vigili del fuoco a causa del crollo di un solaio durante le operazioni di spegnimento. Vediamo. Uno scenario apocalittico quello che hanno trovato i vigili del fuoco di Ferrara intervenuti domenica in un poligono di tiro privato a Porto Maggiore. Nello scoppio della struttura sono morte tre persone e altre tre sono rimaste ustionate anche se non gravemente. Feriti anche due vigili del fuoco a causa del crollo di un solaio durante le operazioni di soccorso. Quando i pompieri sono arrivati infatti dopo pochissimi minuti il capannone era già devastato. Le origini dello scoppio sono oggetto di indagine da parte degli inquirenti. Al momento viene escluso il dolo. Per il resto sono prese in considerazione tutte le ipotesi accidentali. Secondo quanto hanno accertato i vigili del fuoco e i carabinieri della compagnia di Porto Maggiore, al momento dell'incidente c'erano nel poligono nove persone, i tre dispersi al piano superiore e non si esclude che siano rimasti intrappolati nei loro box sulle linee di tiro. Le cause dello scoppio sarebbero riferibili comunque al funzionamento del poligono. Come hanno spiegato gli investigatori potrebbe essersi originato tutto dalla saturazione dei gas prodotti dagli spari oppure ad essersi innescati potrebbero essere stati i residui della polvere da sparo sul pavimento e sui muri. Andiamo ora a Milano dove ricorderete l'accaduto dello scorso aprile quando un uomo è entrato all'interno del tribunale di Milano per un processo per bancarotta che lo riguardava e ha compiuto una strage ammazzando tre persone, tra cui anche quello che era a capo, la persona che era a capo di questo giudizio. Questa persona ha chiesto oggi il rinvio del processo che lo riguarda per bancarotta perché all'interno della sede di Milano non si sentirebbe tutelato in quello che è il rispetto di tutte le normative proprio per quanto avvenuto la scorsa primavera. Ebbene la Cassazione ha deciso di respingere la richiesta di trasferimento. Vediamo. Claudio Giardiello, autore della strage che il 9 aprile 2015 costò la vita a tre persone all'interno del tribunale di Milano, ha chiesto alla Cassazione di spostare dal capoluogo Lombardo il processo per bancarotta nella cui udienza della scorsa primavera ha compiuto l'efferato delitto. La Cassazione ha rigettato la sua istanza motivando la decisione con la consapevolezza che proprio per quanto accaduto in quella tremenda giornata in nessuna altra sede Giardiello troverebbe situazioni sfavorevoli rispetto a quelle attuali. Le tre giudici che hanno assistito alla strage nella quale hanno perso la vita il magistrato Ferdinando Ciampi, l'avvocato Lorenzo Clare Sappiani e il coimputato Giorgio Erba, si sono astenute dal continuare nel dibattimento, sostituite da tre nuovi magistrati. Attualmente, secondo la quinta sezione della Cassazione, non sono state rilevate le gravi situazioni locali, gli effetti pregiudizievoli e il ben definito nesso ambientale sufficienti per ordinare il trasferimento in altra sede. Tanto più che proprio il clamore mediatico creatosi attorno alla vicenda di Giardiello, si legge nelle motivazioni, impedisce di ricondurre a una situazione locale il preteso condizionamento. E arrivano dalla Francia e precisamente da BFM TV, come possiamo vedere tra poco in sovrimpressione, le prime immagini di Salah Abdeslam accusato della strage avvenuta al Bataclan lo scorso 13 novembre, una delle stragi avvenute all'interno della città parigina, Salah Abdeslam che in questa foto è in fuga assieme a Hamza Attu all'interno di una stazione di servizio, mentre i due fanno il pieno. In quest'altra foto lo vediamo, sono immagini che si riferiscono al giorno successivo alla strage, quindi al 14 novembre del 2015, lo vediamo qui, mentre apre una porta. Queste sarebbero le prime immagini di Salah Abdeslam subito dopo quanto è avvenuto nella giornata con i tragici fatti del 13 novembre. Noi cambiamo completamente pagina adesso e passiamo alla cerimonia di consegna dei Golden Globe che hanno visto trionfare un italiano ancora una volta, ovvero Ennio Morricone che ha collaborato con un grandissimo regista americano, ovvero Quentin Tarantino che ha reso omaggio proprio allo stesso Morricone dal palco delle premiazioni. La notte magica dei Golden Globe, i premi assegnati al mondo del cinema che fanno da anticamera agli Oscar, ha regalato molte gioie a diversi attori e registi, ma anche al compositore italiano più famoso, ovvero Ennio Morricone. Al musicista è andato infatti il premio per la miglior colonna sonora per le sue musiche del film The Hateful Eight di Quentin Tarantino. Lo stesso regista ha ritirato il premio al posto del compositore, ringraziando in italiano Morricone e la moglie. È una cosa fantastica, capite che Ennio Morricone è il mio compositore preferito e non intendo un compositore qualunque, intendo uno come Mozart, Beethoven o Schubert. Così il regista Tarantino descrive il compositore italiano. Morricone non ha mai vinto un premio per uno dei film che ha fatto, ha vinto in Italia, ma mai qui in America e voglio ringraziarlo. A 87 anni ha realizzato una fantastica colonna sonora e finalmente vinto un premio prestigioso, ha detto il regista americano. Tra i premi assegnati sorride Leonardo DiCaprio come miglior attore in un film drammatico per la sua interpretazione in The Revenant, che vede premiato anche il regista Alejandro Iñárritu. Per le attrici invece vincono Brie Larson e Jennifer Lawrence. Uno dei premi più interessanti e che lo candida di fatto ad un Oscar è quello vinto da Sylvester Stallone come attore non protagonista in Creed, Ultima Fatica, la settima, dedicata a Rocky Balboa. Il film uscirà giovedì in Italia e vedrà il pugile anziano allenare il figlio di Apollo Creed, suo antagonista e amico, nei primi quattro film della serie. Prima di passare allo sport vi diamo conto di una ricerca che si è svolta in queste ultime settimane e che riguarda la diffusione del virus dell'AIDS e i rapporti non protetti con risultati che arrivano proprio da questo studio che vi mostriamo nel prossimo servizio. Il virus dell'HIV spaventa ancora, soprattutto per la malinformazione. Come emerge dai sondaggi condotti nel 2015 da ANAL-IDS, l'Associazione Nazionale per la Lotta contro l'IDS, e l'AS di Milano attraverso l'app SmartSex, un contenitore di informazioni sulle malattie a trasmissione sessuali disponibili gratuitamente per smartphone e tablet, il 30% dei circa 850 utenti che hanno partecipato alle statistiche afferma di non utilizzare il preservativo durante i rapporti sessuali occasionali. Il motivo? Più del 44% risponde che non se ne preoccupa perché sceglie partner sani. La metà delle persone interpellate conferma di aver avuto comportamenti sessuali a rischio negli ultimi sei mesi. Più del 43% li ha avuti o non è sicuro del contrario e quasi il 40% conferma di aver conosciuto online i propri partner occasionali. Questi risultati allarmanti fanno capire come ancora oggi la disinformazione è radicata e come ancora aiuta il virus a diffondersi. Come dimostra un ulteriore sondaggio alla domanda se una persona HIV positiva sia riconoscibile o meno dall'aspetto fisico più del 31% ha risposto di sì. L'esperienza clinica e la letteratura scientifica però insegnano il contrario. Il virus dell'HIV rimane asintomatico nel periodo di incubazione per poi manifestarsi nell'infezione acuta prevalentemente con sintomi simili influenzali come febbre, mal di gola, rash cutaneo, linfonodi ingrossati e dolore articolare. Un malessere apparentemente comune, tale da non far destare subito campanelli d'allarme nell'interessato che è così in grado di poter infettare altre persone. Andiamo allora a sentire le anticipazioni della pagina sportiva con Ivan Filannino. Buonasera Ivan. Buonasera Mattia, buonasera ai nostri telespettatori. Nel pomeriggio è arrivata ad un'importante indiscrezione che riguarda Milan dall'agenzia ADN Cronos e riguarda soprattutto il futuro di Miarvi, ci provvederemo di cosa si tratta ovviamente. Parleremo anche di Napoli, soprattutto di chi ha guidato la scuola di Sarri al titolo d'inverno, sia il suo capocannoniere Gonzalo Higuain, di Roma perché il futuro di Garzia è sempre più in bilico e anche della Juventus che continua la sua rimonta. Ora i bianconieri sono secondi a due punti dalla vetta. Per ora è tutto Mattia, ti ridò la linea. Grazie Ivan, noi ci fermiamo un attimo e torniamo tra poco con lo sport. E siamo di nuovo in onda, andiamo allora a sentire tutte le notizie della pagina sportiva con Ivan Filannino. A te Ivan. Grazie Mattia, come abbiamo detto, indiscrezione importantissima da parte di ADN Cronos riguardante il Milan perché secondo l'agenzia stampa il presidente del Milan Silvio Berlusconi avrebbe oggi incontrato appunto Marcello Lippi per un eventuale futuro al Milan. Il presidente del Milan Silvio Berlusconi ha incontrato oggi il tecnico Marcello Lippi, possiamo leggere dal sito appunto di ADN Cronos. L'allenatore del Milan Silvio Berlusconi dopo il pareggio per 1-1 con la Roma resta in bilico e direttamente il numero 1 rossonero ha fatto il punto della situazione con l'ex CT Azzurro, campione del mondo del 2006 analizzando quadro e prospettive di una squadra che vede allontanarsi sempre di più un posto per la Champions League dell'anno prossimo. Sappiamo che più volte il nome di Lippi è stato fatto in ambito rossonero come possibile assistente di Brocchi in caso di esonero di Sinisa Mialovic. Parliamo ora di Napoli perché i partenopei festeggiano il titolo d'inverno ottenuto ieri dopo la vittoria per 5-1 sul Frosinone in concomitanza con la sconfitta dell'Inter che ha permesso il sorpasso. Leader di questa squadra è sicuramente l'attaccante Gonzalo Guain, leader anche in Europa infatti l'argentino attualmente guida la classifica della Scarpa d'Oro insieme all'attaccante del Borussia Dortmund a Aubameyang. Vediamo il servizio. Iguain, migliore d'Europa. Non solo il Napoli ha raggiunto la vette della classifica aggiudicandosi il titolo d'inverno ma anche il suo bomber con la doppietta al Frosinone aggancia Aubameyang in testa la classifica dei migliori cannonieri dei 5 principali campionati europei Serie A, Premier League, Liga, Bundesliga e Ligan. Non solo i tifosi napoletani sognano per il tricolore, ma anche il loro attaccante argentino può sognare. Infatti il Pipita può ambire la Scarpa d'Oro, premio riservato al miglior realizzatore in Europa, trofeo che manca in Italia dalla stagione 2006-2007 quando se la giudicò il capitano della Roma Francesco Totti. Messi e Ronaldo sicuramente non si faranno scappare questo premio, ambito da ogni giocatore, ma quello che certo è che Iguain darà sicuramente filo da torcere a tutti i centroavanti europei. Torniamo ora in Casa Roma perché l'1-1 dell'Olimpico contro il Milan rischia di costare caro al tecnico Rudy Garcia, il presidente e proprietario James Pallotta ne è abbastanza quanto pare. Infatti il suo commento è stata una prestazione disgustosa quella messa in campo dei giallorossi sabato sera. In pole position per la sostituzione c'è Luciano Spalletti, ci fa il punto della situazione il nostro Simone Tonio. L'avventura di Rudy Garcia sulla panchina della Roma sembra davvero essere giunta al capolinea. Dopo le parole del presidente Pallotta che si era detto addirittura disgustato dalla prestazione della squadra contro il Milan, l'esonero del mister francese prende sempre più quota. Il numero uno della Roma è pronto per affrontare la questione con il DG Baldissoni direttamente dagli Stati Uniti. Ormai è chiaro anche a Sabatini che a sempre difeso il tecnico transalpino che Garcia ha sempre meno possibilità di concludere la stagione alla guida dei giallorossi. Spalletti è sempre in pole position per tornare a guidare Totti e compagni, ma attenzione anche ad Orghe San Paoli, attuale CT del Cile che con la selezione sudamericana ha fatto benissimo e che nel corso della sua carriera ha sempre dimostrato un'eccezionale empatia con i giocatori e con le Incias, i tifosi più caldi delle società che ha allenato. Prerogativa questa che ormai è stata totalmente perduta da Garcia con i supporters giallorossi. Attenzione però infine alle ipotesi che portano a Francesco Guidolina, allenatore molto navigato, così come l'Ipi e all'idea Alberto De Rossi, mister della primavera molto legato a Sabatini. E per la prossima annata non va dimenticato Antonio Conte che dopo l'europeo dovrebbe dare il suo addio alla nazionale italiana. E non si ferma la cavalcata della Juventus, ieri i bianconieri e Amarassi hanno sconfitto 2-1 la Sampdoria in rete e Polba, Chiedira e gol blu cerchiato di Cassano. Non ha vittoria consecutiva per la Juventus che ora ha due punti soltanto dalla vetta della classifica, sappiamo che era arrivata anche a toccare un meno 11 dal primo posto. Adesso anche Allegri crede nello scudetto, ascoltiamolo. È la Juventus che dopo le prime 10 partite aveva solamente 12 punti e che dopo 9 vittorie siamo rientrati nelle prime 3 posizioni del campionato. Non pensavo che già al 10 gennaio fossimo in questa posizione, i ragazzi sono stati molto bravi e il merito è loro. Il Napoli ha girato a 41, che è una media scudetto, lasciamo perdere gli ultimi anni come l'anno scorso quando l'Avivenzo ha girato a 46, come l'anno precedente, però di solito la media scudetto balla tra 82 e 84. Prima della partita di ieri la proiezione potenziale dell'Inter potrebbe essere 84, ora è del Napoli 82. Vincere 9 partite nel campionato italiano non è facile, quindi a maggior ragione questo è un merito che i ragazzi hanno avuto e hanno nel fatto che sono riusciti a farle. E quando fai 9 vittorie è normale che riesci a recuperare molti punti all'avversario. Ma non è successo assolutamente niente, è successo che Sturaro si è rialzato sull'espulsione, in quel momento lì bisogna stare solamente calmo, lui è venuto verso la panchina e l'ho detto solamente di stare calmo. Fortunatamente mi ha ascoltato. Chiudiamo andando in casa Sampdori, ascoltiamo le parole di Vincenzo Montella che a fine gara ha praticamente ammesso la superiorità della Juventus giudicata al momento quasi imbattibile. Ascoltiamolo. Sì, credo che poi le valutazioni siano da fare a livello globale, dipende dall'avversario, dipende dal momento della partita, dalle energie spese, dalla convinzione. Sicuramente il primo quarto torri eravamo un po' scolastici, non avevamo quel furore che poi la squadra ha dimostrato di possedere, quindi credo che la partita vinta precedentemente non significasse nulla in campo, non significa niente, sicuramente sembrava quasi che la squadra fosse passiva, sì, timorosa più che rassegnata, quindi dopo il gol che ha spezzato un po' l'equilibrio della partita, la squadra pian piano, anche nel primo tempo, visto che pian piano ha provato a mettere in campo le proprie caratteristiche che si sono evidenziate molto di più nel secondo tempo, dopo il secondo gol, la squadra ha avuto una forza, secondo me veramente da grandissima squadra, a rimanere sempre in partita, a provarci fino alla fine contro una squadra che in questo momento è quasi imbattibile. E questa era dunque la nostra ultima notizia, possiamo chiudere la pagina sportiva, ridò la linea a Mattia Todisco. Grazie, grazie Ivan, e noi allora vi lasciamo alle previsioni del tempo, a tra poco. Adesso torno e chiudo con l'oroscopo. Buon inizio di settimana a tutti gli italiani che seguono con passione ilmeteo.it, previsioni per lunedì 11 gennaio. Perturbazione con tanta neve sulle Alpi e temporali in Toscana. Ecco il dettaglio elaborato da ilmeteo.it. Al nord maltempo sui rilievi con neve copiosa, piogge sparse al nord-est deboli sul resto dei settori, temporali con locali nuvi fragili sullo Spezzino, più sole sull'Emilia Romagna, centro orientale. Spostiamoci al centro, qui giungono temporali anche forti in Toscana con piogge abbondanti, tempo più soleggiato su Umbria, Lazio e sulla Sardegna. Molte nubi invece lungo le coste adriatiche. Al sud giornata prevalentemente soleggiata su tutte le regioni, con clima quasi primaverile e qualche piovasco soltanto sull'entroterra campano. I venti saranno intensi e burrascosi di libeccio sul Mar Ligure, Mar di Sardegna e Tirreno, moderati altrove. Neve copiosa e abbondante sulle Alpi, sopra i 1200 metri. Temperature. Minime in aumento al nord stazionari e invece altrove. I valori saranno compresi tra 3 e 14 gradi. Durante il giorno prevediamo invece 6-14 gradi al nord, 11-17 gradi al centro e fino a 20-21 gradi al sud. Ilmeteo.it vi augura una buona giornata. Arrivederci. Ed è tutto per questa edizione del nostro telegiornale. Vi lasciamo all'oroscopo. Grazie, arrivederci. Ben trovati, l'oroscopo di oggi 9 gennaio. Ariete, in amore vince chi fugge e pare proprio che il vostro partner voglia adottare questa tecnica. Nella professione superate brillantemente una prova che vi tiene con il fiato sospeso. Toro. Avete paura delle vostre stesse emozioni perché spesso vi siete sentiti fregati dalla vita. Alcuni di voi hanno la possibilità di trasformare un hobby in un lavoro gratificante. Gemelli. Per voi sentimenti in pieno risveglio, soprattutto per qualcuno all'interno della coppia. Per altri, verso nuove conquiste. Quando sarà il momento potrete dire la vostra. Per ora è meglio stare zitti. Cancro. Non vi sarà facile esprimere quello che provate. Vi impegnerete su molti fronti e a un certo punto rischierete di perdere il controllo della situazione. Leone. Fase di espansione. Esaminate i biglietti da visita delle persone che avete incontrato negli ultimi tempi e decidete quali contatti commerciali approfondire. Amici della Vergine, perché tendete ad esasperare chi vi ama? Fate attenzione perché ogni cosa potrebbe tornarvi contro. Scarsa intesa con i colleghi che non condividono il vostro entusiasmo. Bilancia. Ascoltate le richieste del vostro cuore invece di arroccarvi su posizioni dettate da un esagerato orgoglio. Oggi potrete definire una faccenda proprio secondo i vostri desideri. Scorpione. Il partner sopporterà pazientemente le vostre richieste per assurde che siano. Vi sentirete intimoriti da qualcuno che cercherà di schiacciarvi con il peso della sua esperienza o autorità o posizione sociale. Sagittario. Colti alla sprovvista dalle emozioni o da un sentimento appena nato, oggi non potrete contare sulla vostra solita razionalità. Se avete commesso un errore, non cercate di inventare incredibili bugie. Capricorno. Eros e sentimento vanno a braccetto e con chi vi ama tutto procede alla grande e potrete realizzare un desiderio. Acquario. Evitate di farle pulci ai colleghi e di tormentare il partner con folli gelosie. L'ottima forma fisica vi riempie di ottimismo. Svoggiate così un sorriso smagliante che vi apre ogni porta. Pesci, oggi è favorito il riconoscimento pubblico del vostro lavoro, ma alcuni di voi non riusciranno neppure ad ascoltare gli elogi meritati, travolti da un'improvvisa quanto avvolgente passione. Per l'oroscopo è tutto. L'appuntamento è rinnovato a domani.